Buonasera. Si conclude oggi il mandato esplorativo che il Presidente della Repubblica mi ha affidato. A seguito di un giro di consultazioni, a partire dalle forze politiche che sostenevano il precedente Governo, ho promosso l'avvio di un confronto su temi e punti programmatici tra le medesime forze politiche. Ho comunicato al Presidente Mattarella l'esito del mandato. Allo Stato attuale permangono distanze dalla luce delle quali non ho registrato la unanime disponibilità di dare vita a una maggioranza. Ringrazio nuovamente il Presidente Mattarella per la fiducia. È stato un onore poter dare il mio contributo in un momento così delicato per la vita del nostro Paese. Grazie a tutti e buon lavoro.